Al microfono di Radio Siani, Simone De Giagal. Ciao Simone, vogliamo sapere un po' questo fenomeno internet De Giagal. Ciao, noi come fenomeno internet siamo nati nel 2006, facendo appunto corti parodici, prendendo spunto anche da situazioni reali come il sociale, dalla spazzatura, tante altre cose, quindi scherzandoci, facendo anche un mix col cinema, da lì si è sviluppato comunque tutto i nostri prodotti fino ad oggi, prodotti seriali come lo Steam Google, ironici come Game Genuine e Brenzo, che comunque prendono sempre spunto dall'attualità, quella è la forza soprattutto dei nostri prodotti. Nuovi progetti in vista? Ma sì, in fase di scrittura, sia seriale magari un lungo, vedremo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Siani. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Siani, da Simone De Giagal.